Grazie a tutti. 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 Grazie per la domanda. Ce ne sono altre, le raccogliamo adesso, così poi passiamo. C'è una domanda lì. Perché il 77 poi si ricorda per tante cose ma si ricorda meno per il fatto che la televisione diventa colori anche in Italia nel 77. E' una domanda molto semplice è capire quanto all'interno del movimento c'era una coscienza sulla mutazione che poi avverrà e avverrà in modo travolgente su quelli che sono i moderni strumenti di comunicazione di massa. Grazie, mi sembra una domanda molto pertinente. E' un concorso inverso anche qua vi chiedo sintesi. Ricominciamo allora da te Franco. Le parole più abusate che ci sono. ha finito con la rivoluzione ha finito con la rivoluzione. Malgrado che ci sono dei forti movimenti sociali. Ho citato i ciompi per via dell'italianità, diciamo di questa cosa. Malgrado che ci sono dei forti movimenti, la parola rivoluzione non è usata, è significativo che invece nella rivoluzione francese viene usata nel senso attuale come profonda trasformazione dovuta al fatto che noi conosciamo le leggi vere, non quelle della chiesa. Le leggi vere. Allora, allora, rivoluzione ha un'influsione autoritaria in realtà. Ha un'influsione come se qualcuno conoscesse la cosa e questa cosa va portata al volgo. Secondo me sarebbe meglio, con tutto il rispetto per i rivoluzionari, usare la parola che usa Polani, trasformazione, trasformazione radicale, trasformazione ultima, quello che volete. Ma sfuggire a questo condizionamento storico perché la rivoluzione è l'opera classica della borghesia. Nella storia, nella storia, la rivoluzione, quella francese e quella americana, sono l'espressione classica di un sapere che appartiene a classi colte e che rovesciano il potere costituito in nome della verità e della scienza. Grazie, allora, modifichiamo. Come la immaginavate questa trasformazione radicale? Scusate, dovevo dire la cosa più interessante, cioè un modo di lenire l'ambiguità del termine è quello di vedere la rivoluzione nel quotidiano, nel 77, anche nel 68. Quello che è interessante è che noi già vivevamo come pensavamo di dover vivere, cioè noi già facevamo esperienze di democrazia diretta, esperienze di solidarietà militante con gli operai. Pensa alla quantità di picchetti che a Roma abbiamo fatto davanti alla Fatima e il segret è, per esempio, nell'università tentavamo di sostituire alla lezione cattedratica il seminario. Io non sto dicendo che tutte queste cose sono giuste, sto solo dicendo che lì c'era il tentativo vero di trasformazione, che deve partire, come ci ha anche insegnato il femminismo, da qui e subito, non rimandato nel tempo. Grazie Franco, passo a Cristina, forse puoi usare magari quel microfono lì, è più comodo per dove sei seduta. Beh, innanzitutto sono d'accordissimo con chi poneva la domanda, cioè in realtà il capitalismo è stato il potere, è stato messo davvero in difficoltà da questo movimento e sono d'accordo col dire che, insomma, in fondo non è stato sconfitto, non a caso si è dovuti ricorrere ad una serie spaventosa di meccanismi per ristrutturarsi, assetti per riuscire a reggere un urto, fortissimo appunto, citavo prima debito, impoverimento, precarietà, addirittura sussunzione del desiderio, il desiderio che viene messo all'interno del lavoro, quindi una serie di meccanismi spaventosi. E la rivoluzione, non so, a me sembrava possibile a partire dalla forza che c'era in campo, era davvero enorme, quando dicevo prima di un consenso, che era un consenso di massa, anche ad un'illegalità diffusa, che passava dalle piccole cose, dal prendersi libri, non so, quando andavi in una libreria, che era una cosa che facevano tutti, più o meno, e quando poi magari non eri tu che li prendevi c'era qualcun altro che lo faceva perché diceva ho visto questo libro e te lo passava, come dire, e poi per tornare al femminismo era soprattutto, è stata soprattutto la possibilità di immaginare una rivoluzione nei rapporti, questo anche sembrava una cosa assolutamente fattibile, una cosa, come dire, che incarnava poi le discussioni che si facevano, appunto anche quelle discussioni molto accese e qualche volta violente, insomma, che hanno anche portato ad uscite da assemblee, da parte delle donne in tante occasioni, ma, come dire, c'era un porre la questione sul terreno appunto della materialità delle vite, avendo appunto la forza di farlo e di discutere profondamente di quelle che erano questioni che ci riguardavano tutti insieme, appunto riguardavano noi, che rendeva, non so, secondo me palpabile una sensazione che io devo dire continuo ad avere, per cui appunto penso che sia vero quello che diceva Franco, che forse di sconfitte ce ne saranno altre, ma non sono sconfitte veramente definitive, mai. Grazie, grazie Cristina. Purtuttavia, al di là dell'accezione semantica, nella volgata, in mezzo a noi, la rivoluzione è stata quella bolshevica, è stata quella delle comuni, quella sandinista, ma quella delle ZLN, vogliamo dire, no? Oppure, che dobbiamo dire, oggi, non lo dico io, lo dicono ovviamente le forze combattenti della resistenza kurda, è in atto una rivoluzione in tutto il Medio Oriente per dire che il confederalismo democratico è una rivoluzione che cambia lo stato di cose presenti, questo ci hanno insegnato e mi sembra questa che è l'accezione vulgata. Poi ci mancherebbe, nel concetto di rivoluzione, c'è la trasformazione sociale, è in dubbio, insomma, no? Questo non solo perché ce l'hanno insegnato, ma perché l'abbiamo verificato noi stessi. Qual è il nostro pensiero? Beh, io credo che avevamo rotto con la tradizione marxista-leninista, direttamente e nettamente, non eravamo per la presa del potere, sapevamo che nell'Occidente, al di là dei trascorsi, al di là delle previsioni leniniste che doveva scoppiare rivoluzione innanzitutto in Germania, invece è avvenuto ovviamente in maniera classica dentro una guerra mondiale, che cosa che si può riprodurre, ovviamente, eccetera, il discorso ovviamente della sottrazione di potere è la crescita dell'uomo nuovo mentre si riapproprio ovviamente delle sue condizioni materiali. E questo è il frutto delle cose presenti in atto, quello che ci ha insegnato le ZLN ovviamente in atto, quello che ci sta insegnando la Rojava sono questi elementi, ma non perché si ha preoccupazione della perdita nei confronti della critica delle armi che sicuramente è sempre sovrastante, se pensiamo ovviamente alla superpotenza che hanno in mano le migliaia di bombe atomiche, di che dobbiamo parlare? Stiamo fermi, se ne mettiamo con la testa sotto la sabbia e lasciamo perdere, mentre col cavolo abbiamo continuato e speriamo di continuare a lottare dentro questa sottrazione di potere che ovviamente abbiamo indicato poi strada facendo dove abbiamo più forza o meno forza, nel territorio c'è questa forza che diventa un elemento iniziale del contropotere. Dobbiamo dire quello che accade ovviamente in Val Susa, ma basterebbe dire anche a Venezia con le grandi navi per dire giù a Enomuos, tutti questi sono elementi del contropotere, ci stanno cazzi nel madonna. Voglio dire, sono fondamenti di poter arrivare a sostenere quello che è in atto nella nostra società e mi allargo per un attimo, perché le condizioni, quello che il compagno diceva la continuità discontinua, è vero, perché se gli esegeti della sconfitta hanno detto che già eravamo stati sconfitti all'indomani della cacciata di lama, vedi Rossanda che ha chiamato giovedì in nero, quello che è stato invece l'apoteosi della rottura con l'alesa maestà, e quelli che hanno detto che era tutto quanto finito all'indomani della morte di Giorgiana Massi, e quelli che hanno detto che era stato un casino Bologna, mentre è stato un happening fondamentale, voglio dire al di là di quelli che l'hanno interpretata, ma io l'ho cacciato via perché io ero un opportunista, vedi A.O., L.C. e cazzi vari eccetera eccetera, oppure le brigate rosse che hanno detto che lì dentro avevano fondato la loro aspettativa formidabile della presa dello Stato contro le multinazionali, tutte cazzate, supercazzole che non finivano mai. Dentro questa vicenda ovviamente si situa la discontinuità che proprio all'indomani di quello che ci hanno attribuito come sconfitta gli anni Ottanta che sono stati la dipinzione degli Uppis eccetera, lì avvengono le nostre vittorie. Graziano non te ne ricordi, voglio dire, con i movimenti anti-anti, anti-imperialista e anti-nucleare, noi abbiamo vinto per la prima volta nel mondo chiudendo le centrali nucleari, eliminando i missili Cruis e Pershing a Comiso, abbiamo impedito la costruzione della base di Caporizzuto e tante altre di queste battaglie ovviamente c'era, nel 92 scoppia un fermento unico che è la classe operaia che si rivolta, è l'ultimo afflato dopo la sconfitta del 1980, nel 92 si rivolta nelle piazze in tutto quell'autunno, gli tira i pomodori, gli tira i bulloni, gli tira i sassi, non riescono più a parlare, è siderale quello che avviene, non riescono a parlare se non con gli scudi della polizia, i frentin c'era, non c'era lama, beccarniti, non c'era ovviamente questi broccoli di adesso, ovviamente eccetera, queste sono le vicende, se dobbiamo pensare come arriviamo di corsa al 2001 a Genova e che apoteosi e anche che sconfitta che ovviamente c'è stata là dentro e poi siamo stati attribuiti nel mondo come la più grande superpotenza quando il 15 febbraio del 2003 mettiamo in campo 3 milioni la più grande manifestazione che si sia stata amare nella storia qui in Italia e 100 milioni in tutto il mondo protestano contro la guerra e la guerra vince invece in quel passaggio e poi ci ritorniamo sopra, riusciamo a vincere il referendum nel 2011, riusciamo ad avere un'altra stupidaggine nel 2015, grande massa e stupide e condotte ovviamente che ci portano a perdere quell'afflato che ci abbiamo, ma guardate per concludere, in questo tempo segnato dalla disoccupazione di massa, noi che individuavamo in quegli anni 70 il rifiuto del lavoro salariato, lavoro zero, c'erano i documenti qui a Marghera eccetera, bene oggi sono i padroni che ti dicono lavoro zero e noi gli diciamo reddito intero in questa equazione ovviamente dobbiamo stare perché tra qui e il 2025 i loro step hanno detto tra qui e il 2025 ci sarà la disoccupazione di massa e non c'è nessuna compensazione, non c'è nessun ammortizzatore sociale, sarà come all'ingresso nel 1868 in Inghilterra il passaggio dal telaio meccanico al telaio a vapore, tutti in mezzo a una strada, distruzione di massa a quel livello, allora ci prepariamo a queste date o facciamo che tutto sia in mano ai padroni, disoccupazione di massa, robotizzazione, digitalizzazione della società, cambia il rapporto ovviamente tra l'essere e la società e allora bisogna e sappiamo che lì dentro si situa una possibile rivolta generalizzata, questa rivolta riusciamo a vincere come ogni tanto diciamo, io presumo che ci sono tutte le caratteristiche, presumo che ci sono tutte le caratteristiche addirittura aggravate rispetto a quello che era il 1977, in virtù del fatto che loro vogliono tutto, all'epoca noi volevamo tutto, il libro ovviamente da amico mio ovviamente di Salerno, Natella appunto eccetera e via di seguito, oggi volere tutto lo vogliono loro e dentro questo volere tutto si situa la nostra rivolta, dentro questa rivolta ci stiamo attrezzando, riusciremo ovviamente a approfondire questa attrezzatura nella misura in cui capiamo che la società che ci prospettano, una società completamente alienata in cui ci dicono saranno i robot a lavorare e voi che fate? A voi vi diamo solamente un salario riproduttivo, vede quello che dice Bill Gates, no? Vi diamo un salario da quattro soldi e tutta la società funziona benissimo perché noi siamo i filantropi, noi padroni siamo i filantropi, siamo quelli che costruiamo il mondo, cerchiamo di dirgli che non è così che abbiamo ancora le capacità per sorvertire la situazione attuale. Ma io devo recuperare all'inverso il tempo in cui mi ero un po' allargato, che volete dire, delle pillole. Secondo me bene ha fatto Franco a richiamare questa querelle che sembra terminologica ma è più di passaggio, si potrebbe rendere un piccolo omaggio a Blanchy che rivoluzione un desastre, l'aveva scritto in quella trentina d'anni in cui era stato in cella e è chiaro che mi viene una tentazione. Da dove cominciare? Ma forse da una sospensione quantomeno, destituzione dei poteri semantici, di questa inerzia terribile delle parole, questo non è nominalismo, stasera in fondo si è andati a un colpo al cuore e va bene poi per noi significa altro, rivoluzione, però ogni volta forse dovremmo riuscire a tentare questa sorta di epoché di sospensione dell'inerzia dei poteri semantici costituiti. Cominciando devo dire da quali? Da quelli che ci ha trasmesso la sinistra, perché rivoluzione è uno, socialismo è altro, lavoro, valore del lavoro, insomma tutto quanto in qualche modo il vecchio Lefebvre diceva questi dicono Marx, dicono Marxismo, ma in realtà dentro c'è Ferdinand Lassalle, il capitalismo come naturale ed eterno e lo Stato come nemmeno neutro, ma addirittura amico del proletario nella lotta di classe. C'è un turbinio di termini costituiti che forse bisognerebbe tentare di strapparsi di dosso, non che sia fatta così, ma poiché la consistenza oggi delle parole nell'epoca di questa riproduzione spettrale che al tempo stesso è l'effimero dell'effimero dell'effimero ma anche l'indelebile assoluto che è questa sorta di, non so come dire, di oltremondo, di sopramondo che si svolge nel web, online, nei social network. Forse queste parole che diventano con una portata devastante, terribile, di un agente mutagene continuo, potremmo cominciare a in qualche modo strapparci dal cuore. Faccio un esempio, io come tanti c'avrò un pancian un po' sentimentale che vi devo dire, mi verrà vincente, da quando avevo 13 anni, luglio 60, l'internazionale, malgrado tutto, mi dà i brividi e però perfino la versione originaria, comunarda, quella che non è stata purgata, purgata prima dalla socialdemocrazia che ha tolto una serie di pezzi, Fortini lo sa bene quando ha tentato di riscriverla, prima la socialdemocrazia è arrivata al macellaio nosche, poi il cominternismo e la loro vulgata, hanno tolto delle parti che erano costitutive, quella cross and l'air, il rifiuto della guerra inteso nel senso di Gorizia, nel senso quindi dell'immediatezza della rivolta, della diserzione, della rinitenza, al rischio che ti sparavano nella schiena e poi l'altra, ni Dieu, ni Maître, ni Cesar, ni Dio, ni Padrone, ni Cesare, ni Tribuno, che era una cosa della comune, un po' anarcho comunista, anche quella hanno tolto, ma anche se ce la rimettiamo, dentro c'è quest'idea della freccia del progresso, no? Facciamo tabula rasa del passato, come una specie di atlante che senza punto d'appoggio fa, il mondo changerà di base, fa cambiare di base al mondo e vedete Fortini in quella canzone tenta di scrivere e riscrivere e riscrivere ma anche lì forse bisogna andare ancora più a fondo. Io penso una cosa Vincenzo, pensiamo che cosa è diventata oggi la virgolette ragione geopolitica, cioè una forma talmente delirante, la geopolitica è sempre stata il luogo del crimine di massa il più immenso e il più fatto oggetto di negazionismi continui, no? La frase di Bernard Shaw, nelle settimane prima dello scatenamento di quell'immensa macelleria che è stata la grande guerra, con tutto quello che vediamo ancora nei filmati, io ricordo da ragazzino di Sonzo 17, poi credo che mi dovrebbero tenere in una tega perché sono uno dei pochissimi che ha sentito raccontare la grande guerra, la trincea, le baionette e la prigionia da chi? Da suo padre che era del 93, era fatta, figurate un po', saremmo quanti. Però voglio dire, in questa cosa c'è come il fatto che dovremmo andare un po' ancora più in là perché che la ragione geopolitica fosse il luogo dell'assurdo, che alla fine c'aveva ragione perfino il papa nella semplicità di un'espressione, inutile strage, no? Era una strage utilissima dal punto di vista della performatività, dell'utilitarismo, cioè della logica capitalistica, statale, eccetera. però in qualche modo ormai siamo arrivati al fatto che io ho l'impressione che gli attori, le figure protagoniste di questo gioco di scacchi geopolitica, geopolitico, non sanno nemmeno loro, cioè le inversioni, gli annorvesciamenti, il fatto di non sapere chi è l'amico, chi è il nemico, da un'ora all'altra, da un'ora all'altra e la cosa si presenta come un delirio spettacolare e possiamo noi stare allì a stabilire se per caso bisogna fare sponda con questo, con quello e con quell'altro, che chiunque tu decida sta pure con quello, con quell'altro e con quell'altro. Cioè alcune cose secondo me, alcune inerzie dei termini sacralizzati, così come per esempio la tentazione, in questa sensazione anche di sfacelo, di aggrapparsi a una sorta di riflesso di logica che è quella che chiamiamo cospirazionista, dovremmo proprio serrare i denti e riuscire a farcela, perché in fondo potremmo anche dirla così, senza che questo sia niente di come suol dirsi con un termine inadeguato, perché poi se uno usasse il termine apocalisse nel paradigma suo dell'apocalisse c'è speranza, anzi la speranza, così come nel termine catastrofe, forse dovremmo dire disastro, c'è questo sfioramento di una messa in discussione di quello che per le altre specie animali è geneticamente trasmesso. L'idea forza, chiamiamola idea, il riflesso, il principio attivo dell'autoconservazione della specie. Mi sentivo dire prima Franco quello che le specie animali hanno e il problema, credo, faccio una domanda, è che questa specie qua, razza umana, Homo sapiens sapiens, in qualche modo è una specie di razza dannata che sta al di sotto di questo e deve passare per la ricchezza di coscienza dell'individuo sociale per arrivare a quello che nelle altre specie animali è una sorta di automatismo, cioè che quindi anche solo uno scampo, questo non è umanesimo, uno scampo per la razza umana, non per un qualche valore che ce l'ho detto a un filosofo umanista, ma per riarrivare dopo tutto quanto è accaduto di questa specie come è detta specializzata nella parola e perciò stesso pericolosa, arrivi a questa specie di via cosciente e quindi difficilissima di ciò che nelle api avviene meccanicamente anche se in un modo terribile. Mi sembra che hai fatto alcuni punti chiari, ti chiedo di concludere perché sullo scampo della razza umana potremmo farne ancora. No, perché dicevo che in questo scampo bisognerebbe, finisco un sogno pressoché impossibile e finisco con un salto, vedete nel 68 ci sono stati due eventi, a Londra una specie di convegno gigantesco e caotico di cui c'era traccia in un libro chiamato Dialettica della Liberazione nell'edizione in Audi in cui c'erano dagli antipsichiatri ai militanti e ai militanti operai e poi anche quel convegno del 68 a Venezia fu un po' così, non c'era nessuno che non arrivava lì, nessuno pensava di farsi il suo ghetto separato, c'era proprio una specie di cozzo generalizzato fra tutti e tutti, in fondo con tutti i limiti di essere stato un po' il canto del cigno, il convegno di Bologna, io mi sono trovato anche ad essere una volta tanto un po' pompiere in forme indirette rispetto ad alcune forme, ma non è questo il problema, però anche nel convegno di Bologna in qualche modo ci si era tutti, ma proprio tutti nel senso più completo, ecco chi un giorno potrebbe dire ma vogliamo fare una chiamata a una compresenza che magari succede il bordello definitivo, ma almeno di tale, in cui, ma che vi dico, una battuta, ci siano da quelli che stavano qua tre anni fa fino agli anarchici di Rovereto o agli anarchici ultra o a quelli delle Brigate Rosse prima, seconda, terza, cioè chi sono stati i soggetti attivi in cui in fondo non è che c'è stato chi ha rovinato qualche altro, perché questa è una spiegazione troppo facile, in fondo se ci siamo rovinati e nella misura in cui ci siamo anche rovinati, siamo stati assai complici tutti quanti assieme un giorno uno, un giorno l'altro, e trovare il modo di una specie di convention, cum ventum di questo tipo potrebbe sortire qualche effetto, ma è un sogno. E se succedesse vieni che in caso ricanti l'internazionale magari non succede un disastro. Allora, brevissimamente vi ringrazio tantissimo, Bifosi scusa la sua connessione, mi ha mandato dieci righe, mi chiede cortesemente di leggere, è la sua visione del 77, quella che trovate nei testi che ha pubblicato, eccetera, che è una visione, se vogliamo, non consolatoria, pessimista di quel passaggio, soprattutto di quello che viene dopo, ma stasera mi sembra giusto leggerla perché diamo davvero spazio a tutte le voci. E scrive Bifo. Il 77 è l'anno in cui il secolo esce dall'ordine del 1917, è l'anno in cui si esce dal secolo che credeva nel futuro. Il 77 italiano è duplice. Il marzo è ancora preso dall'illusione della rivoluzione sovietica, ma la cultura del post-settembre, dopo il disastro tardo-elenista del convegno di settembre, esce da quell'illusione. La rivoluzione del 77 è quella di Jobs e Wozniak che creano Apple e anticipano la rete, ed è quella di Margaret Thatcher che inizia la più spaventosa delle rivoluzioni, quella che ha iniziato la distruzione del mondo. Il 77 è soprattutto questo. Il 77 è irriducibile ad una lettura univoca, abbiamo avuto un esempio questa sera, tanti punti di vista, tanti piani di discussioni. Probabilmente questa ricchezza che lo rende tanto straordinario e speriamo che questa ricchezza germogli ancora in forme nuove, inaspettate, trasformative e rivoluzionari. Quindi grazie a tutti voi e buon proseguimento.